Ed ora parliamo di viabilità. La strada provinciale 277 che collega Accettura alla Basentana potrebbe essere riaperta nel giro di un mese. Il comune ha acquisito i pareri della regione e domani dovrebbe partire l'iter che porterà alla costruzione di una pista provvisoria all'atere del tratto di strada franato. I particolari da Mario De Pizzo. E questi sono i danni della frana che rende inagibile la strada che conduce da Accettura alla Basentana. I disagi dopo la chiusura della strada provinciale 277 sono molteplici. Anzitutto per gli studenti che frequentano le scuole superiori a Potenza. Da Accettura sono costretti ad arrivare a Garaguso per poi imboccare la strada statale Basentana. Allungano il loro percorso di più di 20 chilometri ma a risentirne è tutta la comunità di Accettura. Sono tre anni questa strada che è interrotta e uno che va a lavorare ci mette un'ora in più. Non è giusto che siamo così a soppresso ogni cosa che succede qua, nessuno si interessa. Lei fa l'imprenditore qui, è difficile fare imprese senza strada. Sono mobiliere, se non darà Potenza mi rega fastidio. Anche i clienti per venire qui? Forse, è un fermo su tutto. E i fornitori da lei come fanno per venire qui? Mamma mia, non vogliono proprio venire, non vogliono nemmeno venire. Raggiunto il telefono, il sindaco Nicola Buonanova assicura che domani firmerà le autorizzazioni per la costruzione di una pista provvisoria all'adere della strada franata. Consentirà così la riapertura dell'arteria nel giro di un mese. Costerà 31 mila euro. La SP277 attraversa il parco di Gallipoli Cognato e si trova in un'area SIC, Sito di interesse comunitario, sottoposta a vincolo idrogeologico. I pareri pervenuti sono positivi e presto si procederà a questa soluzione tampone. La soluzione definitiva invece sarà approntata nei prossimi mesi. Il Cipe, Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha stanziato un milione di euro per la messa in sicurezza di tutta la strada tramite i fondi per il dissesto idrogeologico.